buonasera a tutti signori bentrovati eccoci qui oggi con un bel video di trading sulla strategia revolution ieri ci siamo dedicati ai nuovi amici che ci dovremmo fare a livello internazionale oggi ci dedichiamo a voi i miei follower preferiti ovviamente gli italiani bene allora oggi dedichiamo questo video alla strategia revolution poi spero di fare quella più in là a 60 secondi magari domani dopo dopo domani e iniziamo subito nel guardare la mia dashboard gbp usd interessante vediamo c'è dovrebbe essere qualche movimento interessante lì io lo vado a guardare fantastica fantastica volevo andare a guardare anche succede altrove gbp audi diamo un attimo che vediamo euro n 0 di voglio capire quella zona di che ci fa euro n 10 ci concentriamo ragazzi cerchiamo l'operazione come prima cosa e poi ci chiamo alle nostre chiacchierate allora qua mi dicevano di mettere in ordine alfabetico ecco qua finalmente ragazzi ci ho messo euro n 0 di eccola questa sì che bella questa sì che bella sì ragazzi sì 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 è questo è proprio il momento in cui riconosciamo la fine di questi sì sì ragazzi allora accendo il broker subito che è stars binari andiamo su euro euro n 0 di giusto ok allora ci mettiamo 15 minuti qua ok ci mettiamo 100 dollari ok ragazzi era un'operazione al al ribasso quindi tolgo la mia effigie vergognosa che la rimettiamo a sinistra che ha portato bene all'altro video e procediamo 15 minuti perfetto in putto operazione input benissimo ragazzi era una bella operazione che proprio incarna perfettamente i movimenti che noi cerchiamo movimenti inconsueti in una direzione e noi stiamo aspettando che quella direzione non era poi non ve lo spiego però dovrebbe incarnare proprio quello che il nostro modo di fare trading ovviamente per gli amici che sono seguaci corsisti eccetera eccetera sapete bene vi ho spiegato già che non mostrerò tutto ovviamente non mai mostrano tutto ma non mostrerò anche in altre parti perché vengono fraintese domanda sulla dashboard che mi è arrivata ora da un amico che saluto mi diceva e con la dashboard si moltiplicano le occasioni trading io vi dico sì sapete perché perché qua voi avete monitorate praticamente 30 passa valute contemporaneamente ci avete visto prima abbiamo guardato gbp usd e poi siamo siamo entrati su euro n 0 d che era migliore per farvi capire no quindi invece immaginatevi stare a guardare solo gbp usd per mezz'ora vi perdete tutto quello che sta accadendo tutto dopo un po di tempo sono tante le occasioni che non si perde quindi un'accelerazione pazzesca al vostro trading ecco come funziona la dashboard naturalmente è per chi ha la revolution è legata non esisterebbe senza revolution sono due cose più che complementari cioè praticamente quasi la stessa cosa ok e come ripetiamo e come voi ben sapete la revolution è praticamente la mia strategia sui dai che si opera praticamente con time frame generalmente dei 15 minuti in su e quindi ad alta profittabilità perché perché in questa in questi time frame in questa operatività abbiamo una vasta gamma di indicatori di armi a nostra disposizione che come quando tu vai in guerra se va in guerra con un mezzo fucile inceppato è un conto magari riesce anche a spararlo perché sei bravo ma immagina andare in guerra con aeronautica marina militare che ne so che ci vuole carri armati e tutto il resto è un'altra storia noi qua riusciamo è un quale ragazzi è una buona metafora il fatto della guerra come quando tu vai in guerra devi attaccare un nemico immagine di avere i ricognitori aerei i droni lo fa in maniera mi certamente puoi anche perdere perché magari sono più bravi loro per immagine di attaccarlo sapendo quante forze a lui quante forze tu potendo progettare avendo tutte le due forze di posizione uguale qui nel trading no certo forse non mi piace parlare di guerra però è così è l'esempio è giusto bene l'operazione sta andando per chi è nuovo io vi mostro sempre e comunque il mio listino cioè quello che io posso offrirvi allora strategia revolution solo pdf euro 200 quella che stiamo mostrando nel video la vincere sarà secondo solo pdf euro 150 con video esplicativo il corso di trading completo euro 600 e comprende 3 sdg pdf quindi i punti 1 2 3 più 13 video lezioni più le video lezioni dei webinar che facciamo e da diritto all'ingresso nel gruppo telegram dei corsisti e siamo ormai 35 ne ho contati quindi è un bel gruppo e facciamo una volta al mese un webinar che ovviamente c'è diritto alla partecipazione e stavo pensando di farlo domenica quindi consulto prima il gruppo vediamo quanti ne siamo quando non ne siamo ci organizziamo e c'è la partecipazione a questi due webinar che si fa o si scelgono argomenti specifici se ci accorgiamo nel mese che c'è una necessità di qualcuno oppure si portano argomenti vari ognuno fa le sue domande porta qualche operazione da lì poi discutiamo insieme che una cosa molto bella la dashboard quello fantastico strumento e gli alert legati alla dashboard che sarebbe una versione sonora della dashboard euro 100 annui abbonamento annuale ok i corsisti quindi vi dicevo hanno tutta questa serie di strumenti a loro disposizione ed è importante perché io non è che lo sottovalutato però ho assecondato le richieste di qualcuno che mi chiedeva di fare un gruppo di vedere l'ho assecondato e mi sono trovato coinvolto e molto bene anche io devo dire e ho visto che molti mi dicono guarda il corso si è bellissimo ma io voglio essere nel gruppo mi piace la il confronto e ragazzi mi fa piacere questa cosa qui è che qualcuno che in settimana saluto che appena è entrato mi ha fatto anche i complimenti per il corso appena preso e mi ha detto guarda quando dicevo i complimenti mi fa piacere perché sono cose che io ci ho lavorato ci lavoro e sono un po' una somma di esperienza e ragazzi sette anni otto anni sui grafici e tanta roba e tanta roba soprattutto in un settore dove come dire io a volte se non mi confronto un po con voi con qualcuno di voi che mi contatta mi scrive un messaggio parlando di del più e del meno dal broker non sono diverse cose è un mondo dove siamo un po isolati perché non è che esco per strada e trovo uno che fa opzioni binarie ok magari mi dirò studiato economia all'università esco per strada troppo l'ho studiato c'erano altri studenti di economia ok quindi abbiamo un interesse in comune trovi qualcuno che fa un lavoro simile al tuo dovunque nel mondo invece sulle binarie ahimè siamo pochi ma buoni è una community online dove potersi confrontare e tanto già per me immagino per voi che siete un po più alle prime armi è molto importante soprattutto con chi vi dice ma no è tutto finito ma no ma si guadagna ma no voi pensate pensate che è finito che a noi fa piacere come vedete io continuo a utilizzare stars binari quindi trovate il link di stars binari sotto tutti i miei video ripeto per chi è nuovo se vi dovete dovete depositare vi prego di di iscrivervi tramite il mio link perché poi vi posso aiutare ragazzi si deposita con mastercard ma prima di depositare la mastercard va verificata quindi va mandato una mail con la foto solo fronte quindi non ci sono alcuni alcun numero sensibile mostrato solo fronte al supporto con la per per la verifica per la verifica ok la verification se non fate questo probabilmente la vostra carta non mi farà avversare ok quindi non è che non funziona se avete bisogno di aiuto e siete passati dal mio link me lo dite vi aiuto io infatti oggi ad una persona era successo questa cosa qua mi ha chiamato e gli erano risolto tramite l'account manager ok siccome qualcuno può accadere questo per qualcuno che vi do questa chicca qui ma la approfondiremo in altri video per qualcuno che è un po più appassionato è un po più come dire mastico è un po più pratico io consiglio di iniziare a vedere e a capire che lo sto facendo anche io e quindi quello che faccio io ve lo dico a voi iniziamo a capire come fare come depositare prelevare con i bitcoin ragazzi non è che voi cosa non è che voi dovete detenere bitcoin voi semplicemente cambiate i vostri soldi in bitcoin depositate in bitcoin e trovate sul vostro conto l'equivalente ok quindi non i vostri soldi non dipendono dai bitcoin quando prelevate veli fate mandare bitcoin e ve li ricambiate in euro dollari nella vostra valuta ok questo perché perché tutti i broker ormai li accettano e secondo me nei prossimi anni sarà questo il futuro ok da qui a 5 6 anni ok magari arriverà prima questo futuro ma io sto ma a parole del futuro a livello monetario dell'umanità ma soprattutto dei settori come quello del trading e di tutte le altre situazioni online stanno tutti quanti virando verso quella direzione voi direte perché perché non c'è da avere a che fare con banche di nulla ragazzi ecco 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 perché quindi una persona che si può fare un portafoglio di bitcoin una società preferisce che lo paghiate in bitcoin perché non deve avere a che fare con nessuna banca con nessuno intermediario cioè pre è il futuro ragazzi poi lo approfondiremo però è un mio non suggerimento sapete noi lavoriamo online quindi sono cose che dobbiamo approfondire prima o poi però non vi preoccupate su pochetto su start binari si può versare ancora con la carta di credito payer ha avuto dei problemi settimana ma sarà ripristinato ad ogni modo chi vuole esplorare io consiglio questa chi ha un po di tempo da perdere siamo in lockdown quindi un po tutti credo approfondite questa questione qua io io prelevo faccio tutto con payer però ho fatto ho fatto alcune prove con i bit e devo dire è un buon sistema mi sono trovato bene ok ma tranquilli che dovesse arrivare questo futuro che vi ho detto io 5 6 anni penso io dovesse arrivare io sarò il vi faccio i video vi spiego tutto non vi preoccupate io sono sempre preciso su questo quando ci sono novità siete i primi a saperlo per ora tutto tranquillo quindi ecco l'importanza di iscriversi tramite il mio link ve lo ripeto ogni volta lo so sono a volte logorroico ma ci sono sempre gente persone nuove e devono essere ovviamente informati dei fatti tra l'altro avete visto ieri ho fatto un bel video in inglese e devo dire che potremmo avere nuovi ragazzi nuovi confronti con persone a livello internazionale perché già avevo fatto qualche video in precedenza ma è andato bene solo che non avevo tradotto strategie ora ho tradotto la spartacus e la vigile sarà seconda in inglese per cui se qualcuno è interessato la può già acquistare in inglese non vuoi ma questo cosa crea crea un confronto cioè sento anche opinioni sono delle vostre opinioni sento le vostre esperienze tutti i giorni sentirò anche quello dal mondo quindi magari quando io trovo qualcosa di interessante io la la ricepisco e ne ne gioviamo tutti infatti io devo dire il discorso del gruppo dei corsisti devo dire grazie o dovete dire grazie ad uno di voi che ringrazio che tratto anche mio compaesano il quale mi ha insistito più di una volta se si poteva fare una situazione del genere e io ci ho pensato e ho trovato la soluzione giusta e l'abbiamo fatto no immaginatevi ora che magari mi insisteva su un dettaglio tecnico su una nuova iniziativa e poi ne giovate tutti perché tutti tutti quelli che avevano già preso il corso e i futuri corsisti hanno questo servizio senza alcun costo aggiuntivo o senza quindi qua vedete come tutti ne giovano dell'innovazione e quindi magari inizierà un confronto più come dire abbastanza frequente con utenti di livello internazionale di molte nazioni perché vi dico una cosa ad esempio in Thailand dove io vivo le opzioni binari sono legalissime ci sono alcuni broker che io non utilizzo ma potrei utilizzare vivendo qua come 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 dire olimp trader molto utilizzato qui per cui si 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 crea ci sono anche persone che fanno lo fanno magari da noi qualcuno ha paura dice no ma che sono le binarie poi sono vietate che non sanno manco loro cosa dicono però invece qui c'è proprio la piena legalità allora magari qua troverò qualcuno molto molto bravo con cui confrontarmi ok vi dico non l'ho trovato ancora perché parlano in inglese un po non sono molto bravi in inglese mentre chi già vede un video binary option in youtube in inglese o è britannico gli americani non possono fare trading però o è australiano canadese o parla un buon inglese già lì ci può essere un confronto più produttivo però è per farvi capire che dal mondo possono arrivare delle buone dei buoni delle buone iniziative è un confronto che quindi questo è quello che spero vediamo tra l'altro non utilizzo olimp trader per una ragione molto semplice perché io la maggior parte dei soldi che mi arrivano una parte me li faccio arrivare in thailandia una parte in italia totalmente in thailandia non voglio tenere troppi soldi in thailandia vi dico una cosa mia personale qualcuno penserebbe perché paghiamo le tasse in italia lo dico subito perché qui se vuoi allora se li vuoi far venire nessuno dice nulla cioè puoi far venire un milione di euro lo dico prego tanto se poi tu invece vuoi far uscire dei soldi quindi che vi voglio dire io guadagno 7 mila euro al mese 8 mila euro al mese di media un esempio e me li faccio arrivare non penso che me li spendo tutti non manco il tempo di spendermeli tutti cioè spendo una buona parte ma non tutti un domani che voglio tornare in italia dico ok mi devi fare un bonifico di 30 mila euro avanzate 50.000 100.000 non lo so quello che avanzerà quando tornerò in italia no non te lo fanno facilmente ok quindi è un problema oppure qui per qualsiasi ragione legale possono chiuderti il conto e sequesterti i soldi ok ci sono pochi mila euro va bene ma immaginatevi di quindi ecco perché io non uso olimp trader sono tentato dal farlo con la carta tailandese ma non posso farlo per questo che molti mi hanno chiesto beato te che puoi fare no vedete noi siamo in una botta di ferro in italia grazie a dio con le nostre carte con le nostre banche comunque ragazzi guardate qua che bella che bella operazione che è uscita il suono del denaro 192 dollari di profitto bene la settimana continua molto bene con la prima giornaliera ore 16 e 24 perfetto ragazzi allora ci vediamo penso il sabato di farvi anche una bella direttina con i corsisti ci sentiamo per il webinar vi farò un altro video in 60 secondi settimanale e ci vediamo come sempre settimana prossima questa settimana qui con altri video di trading mi raccomando iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi nulla ci vediamo il prima possibile un abbraccio a tutti ciao